Siamo arrivati a Bidogna, Vila Nova. Vicente, andiamo? Vila di Novo, Bidogna. Siamo arrivati. Asano nangagawin natin? Nasa'yong Vila, nakasulat? Villa di nuovo guida, a un piazza, San Giuseppe, a Giratina, no? Siamo arrivati, all'IJ, qui stiamo? Villa di nuovo guida, ciao! Gaini, lui Gaini, lui Gaini, il DJ Gaini, perché ci stanno le ruote, no? Piazza la bomba, è stata. Dritto da, dritto! Siamo, inamag po'y un palana diia. Ano'y dimenti, amandato si'am? Ano'y dimenti, amandati, si'am? Ato'y pa'na naman? sono il suo suo lavoro. Si è un consiglio, si è un bisogno diworth. Ma i suoi l'an cima, non puoi faremo. Quindi il suo lavoro è veneno, ma per lei! Chi mi ha detto a casa è qui 10? 11? 14? 17? 15? 17? 17? 18? 17? No, non sono 7, dove è l'anno. No, non è l'anno. Ma non sono ancora più l'anno, dove sono ancora in bracket. Ma'ora ancora. Ma'ora ancora. Ma'ora, è l'anno? È l'anno? Si, la prima è venuta nel per esempio, ma'ora si è venuta, ma'ora si è venuta. Ma'ora, è venuta. No, 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 no. Grazie a tutti. Siamo arrivati finalmente, facciamo la spilata. Ciao ragazzi. 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 Ciao. 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 Ciao.